Salve sono Urbano della San Moreno Volkswagen Audi di Fuscecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata del nostro parco vetture usate. Si tratta di questa Volkswagen Polo Serie 5 ed è un 1.2 cilindrata turbodiesel 75 cavalli dell'anno 2014. È una vettura che può essere guidata dai nostri ragazzi e ragazze neopatentate. Osserviamo la carrozzeria esterna di questo colore grigio scuro anglicide, sempre bella e brillante. È un'avventura che esternamente si presenta ancora molto bene. Qualche graffio, una piccola ammaccatura sulla parte, sulla fiancata destra. Come vedete qui una leggera ammaccatura sullo sportello è un graffio qui sotto sul sottoporta, però niente di così gravoso. Quindi è comunque una vettura che esternamente si presenta molto bene. Come vedete la verniciatura è bella e brillante. Andiamo a vedere un po' di mutazioni della nostra Polo. Partiamo dal fan di nebbia anteriore. Le luci sono con le lampadine normali, ma guardate qua le plastiche lucide, belle, brillanti. Quindi anche quando in fase notturna accendiamo il faro, i fari, il loro funzionamento è comunque al 100%. Abbiamo le gomme quattro stagioni, sempre ottime, quindi ancora tutte e tutte da sfruttare. Siamo anche all'interno della nostra Polo e guardiamo un attimino gli interni. Il cruscotto praticamente è bello da vedere. Abbiamo il suo cambio manuale a cinque marce, climatizzatore manuale e i chilometri della nostra Polo sono 236.527 e sono chilometri comunque certificati da cosa? Dalla manutenzione che il cliente l'ha fatta tutta presso la sua auto-officina di fiducia. Quindi meccanicamente è anche una vettura controllata molto bene e quindi su strada va anche molto bene. Anche la tappezzeria interna si presenta in un'ottima maniera. Bella, pulita, senza tra l'altro buchi di sigarette perché il precedente proprietario non fumava. Poi, come il nostro solito, il tessuto è stato lavato e igienizzato a vapore con questa lavorazione specifica. infatti quando entriamo all'interno del nostro abitacolo l'accoglienza è veramente ottima. Tagliaio ampio con il sedile posteriore sdoppiabile abbattibile mentre sotto il pianalino troviamo la ruota di scorta con tutta la sua attrezzatura. Passiamo al vano motore anche questo bello da vedere con tutto il suo componente al loro posto questo perché comunque le nostre macchine usate prima di essere messe in vendita vengono controllate dal nostro service seguendo la nostra checklist multicontrollo interna e sono svariati punti da controllare uno per uno affinché la vettura sia quanto meglio da vedere naturalmente funzionante. Dopodiché nella vendita ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa con possibilità per il cliente di fare anche un'estensione fino a 24 mesi. Le nostre macchine usate possono avere anche i pagamenti lateali personalizzati con più soluzioni che anche questi vi saranno spiegati insieme. Adesso, sapete, macchine insieme a me andiamo a fare un giro di prova su strada e siamo partiti per il giro di prova con la nostra Polo. Analizziamo un pochino alcuni aspetti praticamente meccanici. Sedile di guida comodo perché è bello largo come seduto e schienale quindi la posizione di guida è veramente ottima. Poi volante leggero e preciso, leva del cambio con gli innesti precisi e frizione anche questa che funziona molto bene. È una vettura che si guida estremamente bene, va dritta su strada, volante dritto senza nessuna vibrazione sulle gomme, quindi è ancora una vettura da sfruttare. Ottima per incominciare a guidare, come è ottima l'insonorizzazione dell'abitacolo, non ci sono battiti, non ci sono spicchioli, risponde molto bene all'acceleratore e poi tra l'altro con il 1.2 turbodiesel tre cilindri 75 cavalli, è una vettura che consuma anche veramente poco, quindi torno a dire proprio ottima per incominciare a guidare. Si guida molto bene nel percorso cittadino come stiamo facendo, pronta all'acceleratore, ma il meglio di sé lo dà nel viaggio lungo perché la nostra Polo, specialmente il 1.2, hanno le marce cosiddette lunghe, quindi quando andiamo nei percorsi diciamo tipo autostradali o non in centro scorre che è una meraviglia, quando mettiamo le marce alte, tipo quarta e quinta marcia, i giri del motore sono veramente bassi ed è lì che la vettura consuma poco, quindi tutta da sfruttare. Lo spazio ne abbiamo a sufficienza anche nell'abitacolo, sia nell'abitacolo che nel bagagliaio, quindi ancora torno a dire una vettura tutta da sfruttare, è già in pronta consegna, potete già venire a vederla e a provarla su strada. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. Vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosanic.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo, Sani Cucette. Ora questa Polo 1.2 turbo diesel 75 cavalli, hai la data alla guida dei nostri ragazzi, le ragazze non patentate? È già disponibile, potete già venire a vederla insieme, anche a provarla su strada oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domani. Grazie per l'attenzione e come diciamo sempre alla prossima vettura. Grazie a tutti.